ciao a tutti volevo fare questo video per dirvi che c'è un'attività paranormale in questo bosco guardate la foglia ditemi se non è normale non c'è neanche un filo di vento oggi dai muoviti so che sei qua muoviti vedete che si muove la foglia ha esposto la so che sei qua tendo la sua presenza come la foglia dai falla cadere muovi la foglia muovila non aver paura guardatela anche voi mi sono accorto prima mentre venivo verso il bosco è l'unica foglia che si muove per chi ha conoscenza del paranormale questo può capitare anche nei boschi quando c'è attività guardate muovi non aver paura muovila prendi è andato via alla prossima ragazzi